Couture Racka Chocolate è una passione che, come tutte le passioni, va provata, va testata. Sicuramente la parola che meglio descrive Racka, Couture Racka Chocolate è il connubio, il connubio perfetto tra i due fondatori, Monica, l'art director e Gianni, il capo pasticcere, Maitre Chocolatier, si sposa perfettamente in quelli che poi sono i prodotti proposti. Una pasticceria che ormai è riconosciuta per la sua identità, per il suo stile e la pralineria ne è forse l'esemplificazione migliore. Dai pralinati alle ganache, un pralinato eccellente, unito alla frutta secca, alle mandorle, alle nocciole, alla noce caramellata o alle ganache. Con dei cioccolati millesimati monoprovenienza del Venezuela, 72%, così come gli aromatizzati con la menta, con il marzapane e con tutti i prodotti che la nostra terra ci offre. Couture Racka è un universo, uno spazio dell'anima che comunica con il mondo esterno attraverso le sensazioni. Bisogna provarlo. Grazie